Ho annunciato qualche settimana fa l'importanza del salario minimo, battaglia del nostro partito. Il Partito Democratico lavora in tutti i territori per allargare sempre una coalizione sulla base di una coerenza programmatica e sulla scelta delle candidature che sono più rappresentative di questo progetto di cambiamento. Quindi così come abbiamo fatto qua e speriamo di allargare ancora, naturalmente lo faremo anche in tutti gli altri territori. Grazie.